no 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 mortimor per quanto tu sia un guerriero valoroso i mangi piccanti sono per i bimbi non per gli uccelli ho fatto quest'errore con mortimor numero 4 quindi solo semi di girasole per te e ora per concludere il nostro banchetto e festeggiare il ritorno della primavera vi presento l'ultimo biscotto delle vacanze di mia nonna bellissimo spero di sentire il sapore con la mia allergia allora come dovremmo dividerlo affrontiamoci in una battaglia cerimoniale al vincitore andrà il pezzo più grande i perdenti se respireranno ancora potranno battersi per le briciole un criceto guarda che guanciotte sembra che qualcuno abbia voglia di un piccolo dessert ehi ehi biscotto di mia nonna mostriciattolo inseguiamo quel criceto l'ho preso l'ho preso l'ho preso presto dividiamoci io e mortimor lo affiancheremo da un lato se voli dietro di me lo affiancheremo su due lati anch'io so come affiancare ma cosa un tubo quello deve essere il capo criceto ciao criceto gigante bambina un'intrusa una viaggiatrice girovaga e un parrocchetto vedo dite perché siete qui o finirete nella prigione delle segrete viaggiatrice io sono kelsey paladina del russello e questo è il mio compagno pennuto martimor trentottesimo del suo nome certo perdonate le mie maniere milady avrei messo in ordine se avessi saputo che sarebbero venute due regine il mio nome è san chan direttrice operativa nella cupola del criceto qui è dove operiamo io e la mia capo criceto biscotto lei perlustra l'area circostante attraverso un sistema di tubi sotterranei e farà porto a me qui quando passeggerai per il russello ricorda che biscotto può essere sotto di te ovunque sempre tranne il martedì quel giorno in una gabbia in camera mia oh biscotto l'ho conosciuta è così che sono arrivata qui wow questo posto è fantastico questo è solo l'inizio vieni ti mostro la zona briciole di biscotto sanno di noce moscata cannella e amore della nonna siamo vicini a mangiarmi oh era solo un gatto ciao